Eccolo qua, Mason Stone, di Arandaggio, il mio primo romanzo noir, e attualmente protagonista di un gioco. Un gioco che io, l'autore, voglio fare con voi, che siete e sarete, forse, i futuri lettori di questa storia. È un libro che non è in vendita, è nella sua versione read in test, comodo da portare, è sottile, quindi non pesa neanche tanto. E perché è un regalo? Un regalo soprattutto anche per ringraziarvi, se lo leggerete, se vorrete partecipare a questo gioco, perché mi aiuterà a migliorare la qualità di questa storia. E lo posso fare solo attraverso voi, che siete magari appassionati del genere, o lettori voraci, e saprete indicarmi, aiutarmi a vedere quelle cose che, come parte integrante di questa storia qui, non riesco bene a vedere. Quindi, se vorrete giocare, avrete 30 giorni per leggerlo, e 15 domande alla termine della lettura. Tutto questo andrà a essermi davvero utile per migliorare questo romanzo, questo primo esperimento, basta che scriviate come commento a questo video, e dite, Alessio voglio un Maison Stone, ci metteremo d'accordo per la consegna, poi vi manderò tutti i link per il questionario, dove contattarmi, dove scrivermi, se avrete bisogno. Commento a questo video, oppure a andalusurranteblogspot.it, oppure alla pagina Facebook Maison Stone NY New York. Questo è tutto, spero che per chi intraprenderà questa avventura, sarà un'avventura piacevole, come è stato piacevole per me scriverla, e niente, sono qua.